e mi rifiuto di presentare il nulla il nulla a Malta mia colpa per un Popeye Village del Tilly l'unica cosa non pubblicizzata a Malta l'ho trovata io dai ci sono guardati la campagna ok ci stiamo abbronzando segno maglietta vi faremo sapere se ne basta la pena una decisione fatta con amore ecco oddio aspetta che ci ammazzano questi pepin travel pepin pepin travel ciao agnoli bye ciao 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 ciao